Pur riconoscendo la legittimità dei cittadini ad esprimere la propria posizione attraverso le manifestazioni, riteniamo come amministrazione comunale che quello che alcuni individui, fortunatamente pochi, stanno organizzando a Ventimiglia sia gravemente dannoso e lesivo per l'immagine della nostra città. In un contesto turistico stagionale che va oltre le più rose aspettative, che vede il tutto esaurito, l'allarmismo di pochi facinorosi su un fantomatico clima di insicurezza a causa del fenomeno migratorio appare alquanto inopportuno, non veritiero, controproducente e in mala fede. Così, senza mezzi termini, il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, si scaglia contro le proteste dei cittadini che chiedono maggior sicurezza per la città di confine e contestano la massiccia presenza di migranti. Secondo Ioculano, infatti, a Ventimiglia non esiste un problema di sicurezza, in quanto la presenza di forze dell'ordine è massiccia più che in altre città e non ci sono dati relativi a fenomeni gravi di microcriminalità. Il primo cittadino conclude evidenziando la necessità di porre in luce Ventimiglia come città turistica.